La cosa che ci manca di più, ci è mancata di più ed è anche una delle attività base, colonna dell'EMPA che riteniamo fosse una delle più importanti e ci manca molto veramente. L'attività nella scuola consisteva nell'invito da parte dei ragazzi o da parte degli insegnanti a venire ad illustrare non tanto l'associazione quanto piuttosto il mondo degli animali che è attorno all'associazione. E questo noi l'abbiamo fatto molto volentieri ottenendo veramente un immaginabile successo di silenzio, di attenzione e questo ci ha commosso e ha stupito anche alcuni insegnanti per esempio. Il lavoro era prevalentemente rivolto con le terze e le quarte degli istituti superiori a cui proponevamo poi uno stage, questo stage era di 6-9 ore, pomeridiano ovviamente, quindi extrascolastico e serviva ad approfondire l'argomento. Quindi diviso in due o tre pomeriggi, il primo pomeriggio consisteva nell'andare a vedere che cosa fa Pesaro per il randagismo e quindi portargli a vedere il canile sanitario, il gattile sanitario e il cimitero degli animali d'affezione che sono tutti insieme su una collina, come sai, verso Santa Veneranda. La seconda parte invece, il secondo pomeriggio, li portavamo al CRAS, Centro Recupero Animali Selvatici, per andare praticamente a vedere che cosa fa la provincia per i selvatici. Io ho una fiducia straordinaria nelle nuove generazioni che sono estremamente maltrattate, così, nell'opinione generale, no? È il bullismo, è questo e quel lato, sì, ci sono anche queste, queste chiamiamole deviazioni, no? Ma la base è forte, basta solo, come dire, smuoverla, portarli a loro quelle che sono le problematiche oppure quelle che sono i successi che si possono ottenere con un certo tipo di comportamento, con un certo tipo di mentalità, formare le mentalità di ragazzini di 16, 17, 18 anni, per me è fondamentale.